Vincenzo Nibali, sicuramente oggi vorrai regalarti una vittoria e regalare anche una vittoria a questa squadra che dovrai lasciare a fine stagione. Ma vedremo, per me questa stagione è stata molto lunga, quindi vedremo un po' come va, sicuramente cercheremo di onorare la corsa al meglio come noi sappiamo fare. La presentazione del giro di Italia l'abbiamo visto, quali sono le tue impressioni su questa corsa, se punterai sul giro oppure andrai di nuovo al tour? Ma per ora non ho fatto un programma di gara ben definito, quindi lo vedremo poi nelle prossime settimane quando la nostra squadra in Italia è molto interessante, ma per il prossimo. Quest'anno sono mancato, quindi l'idea di ritornare al giro c'è. Sei anche contento per la squadra e i compagni che avrai l'anno prossimo potendo supportarti? Sì, sicuramente ho fatto la scelta che più ritenevo migliore, anche per quanto riguarda tutti i compagni di squadra, avrò come tantissime persone di cui posso sicuramente stare da qui e poter raggiungere. Grazie.